Il presidente della Commissione delle Aree Interne, Michele Cammarano, ha inviato una richiesta di chiarimenti al presidente della Giunta Regionale e al presidente della Commissione Trasporti per quanto riguarda la spinosa questione del ponte di Caiazzano, chiuso in attesa di lavori di messa in sicurezza da circa due anni. Il ponte, un'arteria di collegamento cruciale per i due comuni, è chiuso da oltre due anni per ragioni di sicurezza, scrive Cammarano, con evidenti ripercussioni e disagi anche economici per residenti, lavoratori, studenti, attività commerciali e per il comparto agricolo dei comuni interessati. Ho chiesto chiarimenti e sollecitato azioni immediate per risolvere questa situazione incresciosa e insostenibile, continua Cammarano. Le autorità competenti hanno il dovere di intervenire con la massima urgenza per garantire che i lavori di rifacimento del ponte Tanagro inizino senza ulteriori indugi. La comunità di Sassano e Padula meritano attenzione, dignità e rispetto.